Cominciamo da Vasas Standard-Liege, ha vinto la formazione belga dello Standard, anzi cominciamo dall'Ipsia-Veles-Mostar, è 1-1 il risultato e questo è il gol con cui il Veles va in vantaggio con Vukoi al quarto della ripresa. Sempre nella ripresa, appena 5 minuti dopo, il pareggio, c'è questa azione irregolare, calcio di rigore concesso dal sovietico Butenko, trasformazione di Zetske, 1-1 fra Lipsia e Veles-Mostar.